Ben ritrovati, questo ulteriore incontro che è passo passo il mio modo per aiutarmi a comprendere che cos'è un gruppo a rilassamento mente-corpo e per raccontarvi la parte di questi incontri che noi dedichiamo alle condivisioni. Ora il mio pensiero va al gruppo di persone che si occupano della propria famiglia, quindi è un gruppo di caregiver. Di nuovo spesso le persone che hanno questo ruolo fanno fatica a raccontare del loro momento perché intorno a loro potrebbero non avere familiari che sono in grado di supportarli, perché magari sono figli o figlie che non hanno nessun altro congiunto con cui poter condividere l'assistenza del genitore, oppure possono essere genitori di figli con diversi problemi di disabilità. Quindi il caregiver spesso ha lui un suo mondo interno che non riesce a condividere. Un gruppo di persone come il caregiver che invece arrivano qua da esperienze comuni, trovano proprio l'atmosfera giusta per raccontarsi. In questi gruppi noi non cerchiamo soluzioni ai problemi di nessuno, questo è chiaro, ma il fatto stesso di riconoscere questo nostro vissuto, di poterlo esternare e di sentire che anche altre persone condividono questa stessa esperienza che ci accomuna è un modo per ammorbidire questa tensione interna, è un modo che ci fa anche sentire le strategie che le altre persone in questa stessa condizione hanno trovato per alleviare la fatica ed è soprattutto un modo per non sentirsi soli in questa esperienza così estremi, perché altre persone che io sto incontrando all'interno del gruppo la stanno condividendo con me, noi parliamo una lingua comune e questo in qualche modo ci fa sentire in contatto con altre persone. Grazie.